Tutti belli di nascita, hanno chiaramente bisogno di un goccino di acqua ancora perché purtroppo faticano, guardate qui che meraviglia, guardate, roba ragazzi, massicci, roba massicissima. Le foglie di castagno in maniera da potervi far godere. Ok, come potete vedere questa volta ci sono parecchi pezzi di piccola dimensione, qualche fungo un pochino più sviluppato, è una bella cesta, anche questa qui è una cesta importante. Che meraviglia delle meraviglie. Allora vedete che ceppone, è sanissimo, lo caviamo, è un fungo pauroso, pauroso, mamma mia, mamma mia che fungo, è un disco volante. Che spettacolo è massiccio. Lo caviamo, guarda che meraviglia, guarda che stivalis, fantastico. Siamo ad agosto ragazzi, è qua, continua ad andare avanti. Venite, ma venite, venite qua, venite qua. Massiccio, guardate qui che fungo, guardate che gambo, che cappella, ma guardate qui com'è sano, ma guardate, non è solo qua, guardate qua, guardate, 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 guardate che bombolotto, ma che meraviglia, guardate qui, è nato al contrario questo più piccino, oh ma che bello, ma è finita qui. Ma guardate qui che spettacolo, il primo rosso, massiccio, massiccio, ma guardate qui che meraviglia, Moro, che spettacolo, ma non ridere. Moro, che spettacolo, ma non ridere. Moro, che spettacolo, ma non ridere. Sempre massiccio, bellissimo, caviamo insieme, voilà, guardate qui che bellissimo porcino. Guardate qui che trio, guardate qui che trio, trio come la mia signora che si chiama trio, trio, ma guardate un pochino qui, che meraviglia, guardate qui, che spettacolo. Guardate qui che bombogliere, guardate qui che bombogliere, ragazzi. Dite addio al macina, per favore. Bellissimi, ragazzi ve li dedico e adesso dobbiamo andare a vedere altre pungaie che se ci sono, vi facciamo godere come dei ricci. E ora la macina vi prende a bastonate. Un abbraccio, a dopo. Guardate qui che spettacolo, guardate qui che meraviglia, guardate, guardate che spettacolo di fungo. Uno, vi dedico a questo e poi anche il suo fratellino, chiaramente, lo andiamo a cavare. Meraviglioso, fantastico. Ok. Guarda un po' qui, ma che bel bambino, guardalo qui che meraviglia, guarda, ora lo caviamo, lo caviamo, meraviglia delle meraviglie, ma guarda qui che spettacolo. Guarda un po' qui, ma che spettacolo, guardate qui spettacolo, guardate qui spettacolo. Guarda un po' qui. Guarda un po' qui. Guarda cosa c'è, ma mia. Guarda. Guarda, ma. Guarda la mia mano, guarda. Guarda qui, ma. Guarda. Guarda. che boccioli, che boccioli, che boccioli. Spettacolo che lo stanchiamo. Mamma mia. Spettacolo di fungo. Ho. Uuuucca, ma anche l'altro. Manuel. Ho. Un due tre. che meraviglia Bel boletus estivalis massiccio capiamo anche te bellissima bellissima ecco qui bellissima bellissima fungo ma guarda un pochino qua che fungo guarda qui guarda massiccio guarda che gambo guarda ma guarda qui che gambo guarda che fungo guarda che fungo mamma mia che spettacolo guarda un pochino guarda un po' la che spettacolo guarda un po' qui che roba massiccio massiccio lo cavo ok guarda qui che spettacolo di fungo mamma mia i posti sono sempre segreti ma guardate qui che roba che c'è ma guarda qui che fungo ma guardate qui che funghi massicci guardate qui che meraviglia ma guardate bellissimo un esemplare fantastico bello 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 grazie a tutti a questi valis guardate massicci massicci mamma mia che meraviglia mamma mia che spettacolo spettacolari ciao 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 si dice che i funghi vogliono nascere nascono guardate un po' qua ma guardate un po' come si è conficcato questo qua sotto guardate 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 un po' guardate ora spostiamo guardate qui che roba ma guardate qui che roba caviamo che meraviglia che è proprio massiccio ragazzi è massiccissimo guardate un po' come si è conficcato guardate un po' come si è conficcato Grazie a tutti.